Ciò su cui dovremmo ragionare invece riguarda il presidente Zelensky che ieri ha fatto delle dichiarazioni di un certo peso, secondo me. Si è rivolto intanto a dei giornalisti russi, anche se poi in Russia le immagini non le hanno potute vedere. Forse un canale, diciamo, tra virgolette, dissidente ha mandato qualcosa. Comunque c'era anche un giornalista di Comersant. Comersant è una testata piuttosto importante, non è una testata fuori legge, tra virgolette, ma anzi è quella delle establishment. E tra le dichiarazioni di Zelensky alcune colpiscono perché ha rilanciato l'offerta della neutralità. E questo significa cambiare la Costituzione dell'Ucraina, è molto importante. E poi ha messo sul tavolo anche il discorso della denuclearizzazione. Il che mi fa pensare che siano disposti gli ucraini a mettere sotto sorveglianza internazionale gli impianti di cui dispongono. E questo è un altro punto che era molto importante per la federazione russa. Ora, perché lo ha fatto? Perché forse la popolazione civile ucraina comincia a risentire dei bombardamenti che subisce? Non lo sappiamo. O forse perché, come pare abbia anche detto, ha realizzato che per quanto i contrattacchi siano efficaci l'Ucraina non sarà mai in grado di respingere completamente i russi fuori dal suo territorio. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo.